se io devo fare una salita collego la mia corda all'interno della maniglia così in questo modo io posso salire quando mi fermo vedete che non va più giù quindi questo mi serve per salire si può andare solo nella salita per scendere si userà questo questo è un discensore questo qui innanzitutto funziona con il vostro peso lo collegherete alla linea vita all'imbragatura qua nel posizionamento e con questo scendendo vi darà corda cosa succede se io sono preso nel panico perché posso essere preso dal panico e faccio andare tutto così entra in gioco un ulteriore sicurezza per cui si vede che la velocità con cui scende troppo elevata mi blocca ne consegue che in questo modo io riesco a salire e scendere